Voce della quiete La via della conoscenza attraverso Attilio M. vocedellacuiete.vaianocchiocciola.gmail.com Una voce Quando vi diciamo che l'uomo non sa riconoscere il nascere e morire di ciò che è, non stiamo parlando della necessità che avete di organizzare le giornate in base a vincoli concreti o secondo priorità spesso imposte dal vivere sociale. Stiamo analizzando il fatto che per voi vivere è sentirvi protagonisti del fare per realizzare, spinti a migliorare o mutare ciò che si presenta, in quanto nulla mai vi basta, Nulla mai è perfetto così com'è In quell'eccitazione non incontrate la vita che è nell'attimo dopo attimo e non nel pulsare delle emozioni dentro di voi Partecipante Avere delle priorità significa dare un ordine alle cose, una voce, no! Significa subire un ordine, cioè costringervi lì dentro Voi uomini vi sentite spesso obbligati a mediare fra aspirazioni vostre ed altrui, fra vincoli ed opportunità, vale a dire fra azioni mosse da un desiderio e situazioni esterne che temete possano inibirle Tutto questo lo vivete come un grande caos esterno che invade il vostro sistema d'ordine che scandisce un tempo che vivete sempre come limitato ma di cui pretendete di disporre anche se in contrasto con ciò che si presenta E quindi riempite le giornate di impegni, di decisioni e di desideri che si assommano alle sollecitazioni altrui agli obblighi socialmente riconosciuti ed al bussare di fatti inaspettati Tutto questo lo vivete come non armonico e concentrate i vostri sforzi per renderlo il più possibile omogeneo dentro un tempo che adattate a voi sempre attenti a prevenire o arginare ciò che si muove intorno per ordinare il guazzabuglio che attribuite alla vita e per stabilire delle priorità vale a dire se sacrificare vostre opportunità oppure esigenze altrui questo è un processo che vi serve a dare un ordine alla disarmonia esterna a voi che vi sembra di subire